Un cordiale saluto e bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per questo venerdì. Il ciclone è giunto nell'ultimo e resiste rapidamente spostando verso i Balcani, quindi sta favorendo un graduale miglioramento del tempo al sud. Tuttavia una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il nord e porterà quindi una nuova intensa fase di maltempo nel corso di questo venerdì. Quindi ci aspettiamo un deciso peggioramento del tempo sul nord ovest con piogge anche intense, soprattutto in Liguria e sull'alto Piemonte e sulla Lombardia. Non escludiamo anche dei locali nubifragi. In serata il maltempo si estenderà anche al nord est e coinvolgerà anche la Sardegna. Sul resto d'Italia cieli poco nuvolosi tendenti a divenire nuvolosi nel corso della giornata, ma precipitazioni ancora nel complesso assente ad eccezione della Toscana. I venti si rinforzeranno nei quadranti meridionali su tutto l'alto Tirreno nel canale di Sardegna con raffiche molto intense, venti in attenuazione invece sul sud Italia, in attesa quindi del nuovo peggioramento del tempo atteso sabato. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona giornata.